Allora, quando ero un ragazzo io, mio padre, grande uomo, Ferrarini Antonio, mi trappanava i maroni, ma non meno mia madre, dicendo la musica dei nostri tempi. Ora qua ho con me mio figlio Roberto, che ho mai trappanato i maroni dicendo che la mia musica è più bella di quella che ascolti te? Assolutamente no. Ah, meno male, dopo non cominciatemi a dire, zio porco sul cavalcavia, che io dico queste cose. E ora vi smetto di dire che la musica del passato è più bella della musica di adesso, perché i ragazzi vivono la loro età. E sapete perché dite che la musica del passato è più bella? Perché si riveciano in coglioni, zio porco. Dovete cominciare a capire che la musica del passato vi piace, perché eravate giovani, vi tiravo ancora il pipino e facevate ancora i salti mortali. Invece adesso siamo tutti un po' più ricoglioniti, ma la musica di adesso non è meno bella di quella di una volta. È ora di smetterla, zio vigliacco imputridito. E allora, evviva l'Elettro Progressive e evviva l'Aus. Sono andato bene Roberto? Molto bene. Ok.